Mi sembra che sia davvero interessante questa coincidenza fra Bergamo e un po' di mondo, che non è Bergamo da una parte, e dall'altra che si riconoscano anche queste grandissime figure come Liliana Cosi, stasera verrà premiata la carriera, proprio perché un po' legate a Bergamo, ma un po' legate all'arte e quindi attraverso l'arte legate a Bergamo e la sua lunghissima tradizione. Insomma, mi pare che sia un'occasione per ribadire che il radicamento sul territorio, che è una tipica tradizione bergamasca, non contraddice, anzi esige l'apertura e l'arte è sempre radicata e aperta, è una tipica dimensione dell'arte questa.